Il veicolo è da fender a fender 1.82 metri, da tire a roof 1.67 metri. Se guardiamo una visita, da bumper a bumper il veicolo è 4.4 metri, che mettono il veicolo direttamente nel medio del segmento compasso, che è un mezzetto magico e abbiamo una basura di 2.63 metri. Questa basura, per alcuni di voi che conoscono che il veicolo compasso anche l'architetura con Renegade e 500X, abbiamo trovato una differenziazione tra i due, perché in order di aumentare il ruolo sul secondo ruolo, abbiamo aumentato la basura. Ci sono 8 centimetri che avrete apprezzato per ammettere il veicolo, che sono tutti disponibili per i due ruoli. Abbiamo anche ottimizzato la dimensione del tronco per ammettere la dimensione. Se avviciniamo ora i modi di Renegade, potete noticare che è più corto e più corto per la basura. Abbiamo anche messo il Cherokee, il segmento B e D per il Jeep. Potete vedere che è più grande. Il compasso stia perfettamente nel medio di queste due mesurazioni. Questo è molto importante per noi, perché stavamo sentendo che in questo mercato stavamo perdendo qualcosa. Abbiamo un'unica cello che è stato re-designato e re-engineerato insieme, con il target per ottimizzare la distribuzione massica e la stessa che saranno apprezzati durante la gestione e il mvh del veicolo. Ma in modo da non aumentare il peso del caro, abbiamo anche migliorato il nostro percentaggio di stile esterni usati, che è riuscito a 65%. Un altro aspetto per cui ci siamo concentrati, in termini di attività di ingegneria, è di dare alcuni elementi che sono apprezzati dal Jeep. che apprezzano, come sapete, l'esperienza dell'energia. Quindi, come Renegade ha un rinforzo completamente rinforzato, qui sul compasso, che è un po' più urbano, abbiamo ricevuto una panoramica rinforzata che va continuamente dal primo ruolo a dal secondo ruolo, e per oggi, nella versione limitata, vedremo il contenuto. Un altro aspetto è la capacità del caro. Qui abbiamo ricevuto un luogo di luogo che è potuto essere attaccato in tre posizioni. Quindi, ho una posizione full-up che ha ricevuto 368 litri, ho una posizione intermedia che ha ricevuto 20 litri, e una posizione full-down, 50 litri addissionalmente, e 60 centimetri di displacimento dal full-up. Questo misuramento tra la capacità totale di 438 litri, che è uno dei migliori miglioramenti in questo segmento. Per chi non è soddisfatto di questo ruolo, abbiamo anche disegnato una posizione flessibile seconda ruolo, che può essere splitati 40-60 o 40-20-40, che, all'interno, ha ricevuto 1.251 litri di capacità in termini del caro, con un'area di luogo di luogo di luogo di 1 m2. Stavamo parlando del corpo, molto importante è avere i leghi flexibili e capabili. Nel compasso abbiamo confermato il schema di sospensione che è stato apprezzato sul Renegade, per la gestione e la capacità di rinforzamento. Facciamo una sospensione sul fronte, con una spesa molto preziosa per la ruota, con una sospensione sul rinforzamento, che assicurano sempre le tue in contatto con il luogo, e 20 cm di articulazione del rinforzamento. Quindi, una sospensione che è completamente indipendente. La qualità di rinforzamento, per assicurare il comfort, sia in off-roading e in off-roading, abbiamo offerto una sospensione standard fronte e rear, con una sospensione FSD, che ci permette di attivare, il più di più di più di un comfort e di più di più di off-roading. Per quanto riguarda il rinforzamento, abbiamo offerto 8 combinazioni diverse. Abbiamo offerto, per la gasolina in Europa, il 1.4 Multi Air 2, con il start e stop, che è combinato con una trasmissione manuale, front-wheel drive, made in Powertrain Verrone. Il top 1.4 è 170-250, combinato con una 9-speed, made in Kokomo, che si è sviluppato da inizio, in modo da operare il meglio, con un sistema non-wheel drive. Per il mercato russi e il Mio-Ottio, ci sono offerte il 2.4, che è standard offerto in NAFTA. I diesel sono i 1.6, ben conosciuto con 6-speed, e i 2.0, che è offerto in due livelli di potenza. Abbiamo un 140 manuale e automatico, sempre all-wheel drive, e abbiamo un 2.0 litri 170-380, che è sempre all-wheel drive, che è standard offerto in NAFTA, e offerto in RENEGAD, con un livello di potenza. che si può fare con il Limited. Ma il sospensione, il sospensione del shock absorber, e la calibrazione dell'engino, seguendo quello che ho detto prima, hanno stato sviluppato in regione, da persone del FCA EMEA, in modo da essere più vicino alle aspettazioni del cliente. l'Active Drive è stato introduzione, per la prima volta, da Jeep, nel segmento B, e è, di nuovo, state-of-the-art, anche nel segmento C. È un sistema non-wheel drive, molto trasparente e indipendente dal cliente, se è installato in Auto-MOD. Questo significa che, in Auto-MOD, con la collezione di molti sette informazioni, si definisce quando è necessario avere un 4-wheel drive e quando non è necessario. Questo significa che, quando stiamo guidando in IW, non è necessario avere un 4-wheel drive. Hai massi rotanti che aumentano la consumazione di fuel. Quindi si tratta di front-wheel drive. vice-versa, quando è necessario per la traccia o la sicurezza per avere un 4-wheel drive sistema, si tratta rapidamente a 4-wheel drive. Come si succede? Si succede con questi due motori elettrici, che sono i disconnetti del veicolo. Quando il veicolo si tratta di front-wheel drive a front-wheel drive, si tratta di front-wheel drive si tratta di front-wheel drive a cercare la traccia che prenoti che si tratta di front-wheel drive ma trasferla il ruoso che viene dal veicolo via nelle mecanismi. Il mecanismo deve iniziare a rotare tra il front-wheel drive che riuscano da front-wheel drive del meccanismo connetto con il motore, la rotazione del meccanismo connetto con il ruolo quando le due rotazioni sono in fase, quindi il risultato relativo è vicino a zero, abbiamo un motore elettrico con un calcio più e il sistema è iniziato. Questa operazione che succede, come ho detto, trasparentemente per il cliente, quindi non è definito, almeno quando è in auto mode, questo succede e prende meno di 0.3 secondi in order to happen, ci prende un minuto per esplendere. Abbiamo un'attitudine più seleccionata da rotazione, che sono sand, snow e mud, che operano sempre in all-wheel drive, quindi il sistema è sempre connetto. Tras la selezione di questo terreno, il veicolo opera in l'enginio, la trasmission, la trasmission, la trasmission e la trasmission in order to increase or to define the low of transmission of force that are best suited for the terrain. So, for example, snow, slippery condition, you need to have a very smooth transmittal of force, it slows down all the transmittal curve of the system in order to assure that the vehicle is best suited for the terrain. Vice versa, sand and mud are very, very crispy and are more adapted to the real off-roading and low-speed profile. Trail lock trim level. Trail lock trim level is being awarded by the trail rated by the Jeep expertise. For the one who are familiar with this, what means trail rated? Trail rated means that the vehicle is able and capable to meet the extreme demands of an off-road. And this is defined through a list of maneuver that the vehicle has to do in order to pass this graduation. How the vehicle trail lock is able to pass this test? Because we fit into the vehicle some peculiar components like the bumper that increase the approach angle. The approach angle, for example, moves from 20 to 30. We increase about 2.5 cm the ground clearance of the vehicle and we reach 21.6. We were, let me say, already bearing the capacity of a wheel articulation of 20 cm. This geometrical feature, combined with the active drive law, with the delivery of a crowd ratio, that is an evolution of the system that delivers a crowd ratio up to 20 to 1, is able to bring this vehicle at top of the off-road capability of the compact segment. As additional features, typical for the trail lock and needed for the trail rated, we have a full protection of the underbody, made by skid plates which are 3 mm thickness stamped steel, which are able each of them to bear at least half of the weight of the vehicle. This is in order to protect all the vital mechanism that need to be operative in order to bring the driver at home when he face a very hard off-roading.